Musica Conferenza stampa di Finiango della Cegnali Pesaro Urbino Presidente Maxi Conrad Montefetro in Urbino si annuncia che è stato un anno particolarmente difficile questo 2018 Sì, un anno più che altro in cui le incertezze hanno avuto la meglio sulle certezze questo è il problema maggiore che noi verifichiamo e che vediamo anche per il nuovo anno purtroppo abbiamo dovuto assistere a un rallentamento dell'economia quest'anno dopo un lungo periodo in cui avevamo consolidato posizioni i motivi sono vari diciamo che possono essere riassunti in l'avvento di un nuovo governo che ha portato un po' di incertezza in tanti temi sono temi internazionali in cui chiaramente non possiamo sottrarci come le politiche campanilistiche di grossi attori internazionali come gli Stati Uniti il protezionismo ma io oso dire anche la crescita di grossi paesi asiatici le sanzioni che abbiamo chiaramente che si penalizzano a livello territoriale marchigiano per alcune tipologie di prodotti per tante tipologie di prodotti insomma un quadro non molto delineato un quadro in evoluzione l'auspicio chiaramente è che l'evoluzione vada verso il meglio io dico noi pensiamo che ancora avremo un 2019 abbastanza incerto quindi ci aspettiamo che la situazione noi ci aspetteremo che la situazione migliorasse naturalmente però i segnali che ci vengono non sono propriamente confortanti chiaramente noi lavoreremo affinché per quello che è le nostre possibilità affinché questo debba avvenire insomma ecco quello di dare un viatico un po' più certo alla nostra economia insomma noi ci impegneremo in questo senso dovete essere ottimisti avete detto e dentro di voi quindi quali parole di ottimismo possiamo lanciare da qua agli imprenditori che ci stanno seguendo e che stanno affrontando queste difficoltà perché ricordiamo che nei primi 11 mesi sono 484 le unità di imprese che hanno chiuso nella nostra provincia noi abbiamo un grosso potenziale a livello provinciale ma dico che è un potenziale che è di tutta la regione di tutto il paese che è l'export prima abbiamo parlato profonditamente di questo i numeri che stiamo esprimendo sono numeri veramente importanti io dico l'export non si improvvisa naturalmente però chi ha possibilità chi ha la facoltà di poter avere nell'ambito della propria produzione i prodotti potenzialmente esportabili che ci sono richiesti da qualsiasi parte nel mondo deve provare a trovare la sua via perché come ricordava prima anche il segretario poi il lavoro che deriva c'è un lavoro indiretto che arriva dall'export che poi va sul nostro territorio dai nostri artigiani da nostre maestranze da tutte le persone tutte le attività che concorrono a che il nostro prodotto finito poi vada su dei mercati e possa essere apprezzato con la qualità che ha quindi noi abbiamo questa grossa opportunità naturalmente mi appello anche al senso imprenditoriale dei nostri imprenditori naturalmente a crederci come sempre noi imprenditori facciamo un lavoro difficile e arduo quindi mi appello a crederci e a cercare di trovare anche fuori dall'export la propria strada chiaramente che deve essere sempre una strada in cui al centro ci deve essere sempre un prodotto di qualità è un prodotto che si differenzi dalla concorrenza naturalmente e che esprima sempre al massimo il nostro gusto la nostra qualità che sappiamo esprimere come imprenditori italiani ricordiamoci sempre che nel mondo noi siamo un paese molto invidiato io posso dire anche invidiato ma molto preso di mira da esempio le nostre produzioni sono produzioni che sono richieste ovunque quindi noi abbiamo una tradizione molto ampia e abbiamo molte potenzialità quindi vanno solo vanno solo prese portate avanti e sfruttate è un segnale importante siamo a Urbino nell'entroterra perché da tanti mesi la CNA ha deciso di dare un focus di importanza notevole al nostro entroterra ci sono aziende che hanno notevoli problemi hanno degli svantaggi rispetto alle aziende della costa non dobbiamo abbandonare quel grande valore anche di imprenditoria che il nostro entroterra ci ha sempre dato negli anni e poter fare le nostre iniziative più importanti l'entroterra è un segnale fondamentale che deve dare fiducia e deve far credere alle imprese dell'entroterra che non sono abbandonate a loro stesse ma che c'è una grande associazione come la CNA che ha a cuore i loro problemi e cerca in ogni maniera di combattere perché alcune cose vengano risolte mi riferisco all'infrastruttura alla viabilità e anche alla banda larga che sono i problemi molto più impattanti qui che lungo la costa un lento e inesorabile declino che noi stiamo da anni cercando di combattere facendo capire che alcuni errori strutturali che il nostro paese ha insito in se stesso non rende possibile fare una buona imprenditoria parlo della tassazione che a questi livelli anche localmente è enorme un'azienda di Pesaro fino al 16 agosto lavora per lo Stato e poi lavora per se stesso parlo della burocrazia costi e pratiche impattanti che rallentano la possibilità di investire e la capacità di essere poi competitivi nel mercato parlo della scarsezza grande scarsezza di investimenti abbiamo bisogno di fare investimenti di fare investimenti sulle infrastrutture sia materiali che immateriali cioè parliamo di l'entroterra zona in cui non prende il cellulare parliamo di banda larga e qui non prende il cellulare ma di cosa stiamo parlando come si fa a essere competitivi nel mercato globale parliamo della difficoltà ad accedere al credito e in tutte queste partite in queste battaglie la CNA c'è c'è da protagonista dal credito alle altre cose perché siamo capofila di una serie di progetti per che questo focus delle cose che vi ho appena detto sia a livello nazionale importante sia gridato perché migliaia e migliaia di aziende che chiudono nel silenzio più assordante è insopportabile il ruolo dell'associazione è anche quello di vedere il bicchiere mezzo pieno di rappresentare una realtà anche numericamente importante quindi di vedere anche di interpretare i segnali positivi primari per il 2019 dicevo prima in conferenza stampa chi fa il mio mestiere deve avere dentro il DNA proprio nel DNA stesso una sorte di ottimismo altrimenti bisogna che si cambia mestiere io voglio vedere il bicchiere mezzo pieno lo vedo nei dati dell'export che vede ormai in maniera strutturale la nostra provincia come la migliore della regione Marche come quella che ha individuato filoni di mercati anche non tradizionali importanti che danno riscontri poi numerici e qui voglio togliermi un po' di soddisfazioni perché da anni lavoriamo come associazione alla cultura dell'imprenditore nell'internazionalizzazione non è che si diventa imprenditori internazionali dall'oggi al domani ci vuole formazione ci vuole la capacità di capire i propri limiti in primis di capire che magari mettendosi insieme ad altri e fare sistema con l'associazione che ti guida in questi processi poi i risultati vengono e il fatto che anche quest'anno siamo stati protagonisti nell'export io dico che non sono numeri che vengono a caso quindi il bicchiere lo voglio vedere mezzo pieno aumentiamo e miglioriamo questa situazione e cerchiamo di scuotere chi governa per migliorare invece le altre condizioni di cui parlavo prima CNA Cinema è uno dei nuovi progetti in cui vi siete tuffati quest'anno così come lo spiegare la fatturazione elettronica ma soprattutto c'è Urbino una partnership che è stata consolidata celebrata con IDEM e oggi siamo ancora qui L'entroterra lo dicevo in precedenza per noi è fondamentale è un focus importante irrinunciabile di imprenditori che hanno del grande valore che non va tutto questo patrimonio non va disperso ma anzi bisogna mettere nelle condizioni i nostri imprenditori soprattutto dell'entroterra di essere competitivi di cancellare quegli svantaggi che hanno rispetto invece agli imprenditori della costa e la CNA sotto questo aspetto si pone come associazione assolutamente di riferimento che tranquillamente può dire non abbandonerà mai questi imprenditori ma cercherà sempre di essere una guida certa e sicura Fidi regionali siamo stati i capofila di SRGM società regionale di garanzia Marchele il quarto o quinto confidi a livello nazionale siamo davvero un confidi importante che può fare non soltanto garanzia ma può fare credito di diretto può fare fiduzioni può dare altri prodotti perché al centro della nostra agenda c'è il bene dell'impresa l'impresa deve essere aiutata nel mondo del credito e uno strumento come questo io penso sia straordinario grazie a tutti